L'istituto è strutturato come una facoltà universitaria con il cammino ormai tradizionale 3 più 2, 3 anni per la laurea di primo livello, 2 anni per la laurea di secondo livello. Si rivolge soprattutto a coloro che sono intenzionati a insegnare religione cattolica nelle scuole, è il titolo richiesto per l'insegnamento della religione, tra l'altro c'è una grande richiesta in questo periodo perché dagli uffici scuola continuano ad arrivare domande di persone che possano avere i titoli per insegnare questa materia, quindi è un campo molto interessante in questo periodo. Ma si rivolge anche a tutti quelli che vogliono approfondire il loro cammino di fede. Che valore può avere una formazione di questo tipo nella società di oggi così secolarizzata? Io penso che io insegno religione a scuola anche, poche ore mi insegno religione a scuola e mi rendo conto dell'importanza di questa materia perché oggi è importante, si è disimparato a porsi domande fondamentali, il senso della vita, il senso del dolore, il senso di amare, il senso dell'amicizia, il senso di tutti quegli aspetti religiosi in senso lato che forse vengono dati per scontati ma scontati non sono. E quindi avere invece un'occasione per imparare a pensare nuovamente questi aspetti così fondamentali della vita in un'ottica di fede perché comunque si rivolge soprattutto ai, non unicamente ma soprattutto ai cristiani, l'istituto superiore, penso che sia veramente un valore aggiunto nella società contemporanea. Ecco, la prospettiva di quest'anno è quella di frequentare in presenza come siete riusciti in quest'ultimo periodo a gestire con la pandemia le difficoltà legate a questi mesi. Noi abbiamo avuto una ristrutturazione, se vuole gliene parlo, dal 2019 abbiamo anche due poli di formazione a distanza e trasmettiamo le lezioni in sincrono. In questo modo quando è arrivata la pandemia noi eravamo già pronti a trasmettere le lezioni in remoto. È bastato trasmetterle non soltanto in un'aula lontana ma trasmetterle a casa per casa. Per cui la piattaforma che ha permesso ad ogni studente di seguire le lezioni da casa intervenendo noi l'avevamo già preparata prima della pandemia. In questo modo le lezioni sono andate avanti con regolarità, un po' come in tutte le università in remoto. Sicuramente è giunto il momento di riprendere la presenza, senza strappi, senza durezze, ma la presenza soprattutto per le nostre materie, la lezione in presenza è un valore aggiunto fondamentale perché vedersi in faccia, poter fare un intervento, una domanda, confrontarsi è straordinariamente importante nelle nostre materie filosofiche e teologiche. Ecco, dal 2019 l'Istituto è regionale, come avete anche gestito questa comunione tra le diocesi anche per la formazione e il bene degli studenti? Bisogna imparare a collaborare anche con le persone lontane, non soltanto dalla fede, ma lontane fisicamente. È stato un cammino bello, importante, a tratti difficili, ma direi che abbiamo raggiunto adesso un buon accordo. Abbiamo un polo di formazione alla Spezia e un polo di formazione ad Albenga. Sia per la pandemia, sia per la situazione, vorrei dire, surreale delle autostradi Ligure nell'ultimo anno, le comunicazioni sono fisiche, sono difficilissime, per cui dobbiamo accontentarci tante volte di rapporti virtuali, ci sentiamo, ci vediamo e abbiamo comunque imparato a collaborare e a lavorare davvero come un istituto unico, con una sede centrale anche geograficamente e due poli FAD di formazione a distanza. Per chi vorreste avere informazioni sui corsi, sulle iscrizioni, dove ci si può rivolgere? Io suggerisco di andare a consultare il sito isserliguria.it perché è costantemente aggiornato e contiene anche tutti i contatti per poi contattare le segreterie, la segreteria più vicina, la Spezia Albenga Genova, con gli orari, con i numeri, con tutti i contatti. La nostra sede genovese è in via Serra 6C, il vecchio apostolato liturgico.